Musica Avevo polo di Youtube, io sono Tirla e sono Raptor e vi do il benvenuto in questo nuovo video della Let's Go Pixelmon Oh yes baby, bentornati Dunque gente, nello scorso episodio eravamo andati innanzitutto a tentare di catturare gli ultimi due Pokémon che mi mancavano da evocare tramite l'altare dello spazio-tempo, ossia Dialga e Ghiratina Tuttavia sfortunatamente non siamo riusciti a catturare il secondo dei due, ossia Ghiratina Pertanto sarò costretto a farmi aiutare da qualcun altro all'interno del server che mi presti i tre quartieri dei laghi Per ottenere una nuova rosso-catena da poi utilizzare per evocare un altro Ghiratina nella speranza di riuscire a catturarlo questa volta Ma ragazzi, oltre ai vari tentativi nell'altare dello spazio-tempo, nello scorso episodio abbiamo anche cercato di catturare degli altri leggendari Perché di fatto il nostro Living Dex è oramai quasi completo Con il video di oggi voglio andare a catturare tutti quanti i Pokémon non leggendari che ancora devo catturare Non leggendari o non misteriosi, insomma, i Pokémon comuni E in totale di quelli mi rimancano davvero pochissimi, sono minuti dieci Ora come ora mi mancano più Pokémon leggendari che Pokémon comuni Tuttavia vorrei cominciare l'episodio catturando un dannato Itran Itran che spawna o al tramonto o all'alba qui nella mesa plato M L'ho camperato nello scorso episodio, non sono iniziato a catturarlo Quest'oggi sono convinto e sono deciso ad aspettarlo finché non appare Dovrei avere abbastanza ball per riuscire a prenderlo eventualmente Quindi, hey, speriamo bene, attendiamolo E nel frattempo mi metto a giocare col mio Nintendo DS, ciao A dopo, a quando spawna Itran È successo! È successo! Ho appena abbattuto un Mega Metagross leggendario E mi ha droppato una cazzo di Master Ball Bentornata! Porca puttana, quanto tempo è che non avevo una nell'inventario Bene, e ora questa per chi la usiamo? Probabilmente per Ghiratina Sì, perché gli altri sono tutti quanti respawnabili facilmente Allora gente, come ben saprete ormai La Pixelmon Generations è una mod buggata Come la merda in cui le meccaniche funzionano una volta no E l'altra volta nemmeno E spesso e volentieri, andando a leggere sulla wiki dell'altra Pixelmon Quindi la Reforged Si possono trovare delle informazioni piuttosto utili riguardo ai Pokémon E ho visto che Itran nella Reforged Non spawna nella mesa plato M o all'alba o al tramonto Bensì può spawnare in ogni momento della giornata Purchi sia in una mesa Una mesa qualsiasi Che sia quella classica Che sia una mesa plato Che sia una mesa plato F Una mesa plato M Una mesa plato FM Una mesa Bryce Basta che ci sia in una mesa E noi in questo momento siamo in una mesa Bryce Ma non solo bisogna essere in uno di questi biomi Bisogna anche essere a livello sotto il 50 Quindi di fatto sotto terra Vicino a una pozza di lava Evidentemente funge così lo spawning del Itran Io non so se sia vero o meno Tanto sono sopra che aspetto da un'oretta Quindi passare qua un 25 minuti e mezz'ora Non mi costa nulla Mal che vado a tornarsi in cima Allora Sono sotto terra Itran è spawnato Ma è spawnato in una mesa M In una mesa plato M Ora Per curiosità Tanto posso tornare giù in qualsiasi momento Fatemi tippare sopra E vedere se è qui Oh oh Salve oh Ah è spawnato anche lui Però ciao Itran Come stai zio Tutto a posto Di che tipo sei tu Sei fuoco acciaio vero Con chi minchia ti attacco Salamence è l'unico che non ti fa tanto danno Ah cazzo sei che è di livello 50 Sheet Ok vita rossa vita rossa vita rossa Perfetto Grande Grande Salamence adesso È giorno Però Possiamo cominciare a lanciare addosso le Ultra Ball E poi è il ma che vado a aspettare la notte E lanciare addosso le Dusk Ball È di livello 50 Non dovremmo avere grossi problemi a catturarlo Mi ha anche spawnato un Turtonator alle spalle Stai scherzando? Mi serve il Turtonator Che top Però qua Ci muoviamo caro Itran Perché non ho tutto il giorno Cioè davvero ce l'ho Però Facciamo finta che io non ce l'abbia Quattro Yes 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 Bitches Abbiamo catturato Itran Che top Ah questo qua è il buco che ho scavato per andare giù vicino alla pozza di lava E adesso lo richiudo perché non voglio caderci dentro come un caretino Perché Mi conosco So che sarei in grado di morirci Perfetto Salve Anfaros Non mi interessi Mi interessa il Turtonator però Dove sei? 54 Porca merda Preso Yes baby Samurot ha fatto il suo lavoro incredibilmente E andiamo a depennare dalla lista a sto punto il Turtonator Non pensavo di incontrarlo così facilmente Eppure A questo punto ragazzi Dopo aver riposto sia Itran che Turtonator Al loro rispettivo posto all'interno del Living Dex Direi di stare qui là no All'interno di questa Desert M Per sperare di vedere spawnare un Crocorock e un Crocodile In quanto ho soltanto uno dei tre membri tra virgolette della catena evolutiva Non ricordo neanche come si chiami quello che ho Ma adesso lo cerchiamo Ecco abbiamo un Sandile Ci mancano come detto un Crocorock e un Crocodile Quindi le due evoluzioni di Sandile Fatto sta che questi Pokémon spawnano proprio nella Desert M Proprio di notte Quindi casca tutto quanto a faggiuolo Aspettiamo Oh bella zio Fatti catturare Che ho bisogno del tuo corpo coccodrillesco Per completare lì Quanto suona male ho bisogno del tuo corpo coccodrillesco Sembra che io voglia Vabbè Usarlo per fare delle borossette Non mi soffocare La cosa positiva dell'aver trovato lo stadio finale È che volendo potrei anche andare a mettere questo qui Buonasera Potrei anche andare a mettere il Crocodile nella breeding machine insieme al ditto E una volta fatto ciò Far livellare il Sandile tanto quanto basta Per farlo diventare un Crocorock In modo tale da avere tutte quante le forme Con discreta facilità Senza doverne cercare un altro di questi Che mi ci è impiegato un po' Perché alla fine mi sono dovuto anche spostare di bioma Bene Ingaggiandolo ha funzionato tutto quanto Perfetto Ciao Crocodile A questo punto A che livello si evolve il Sandile in Crocorock? Al 29 Quindi Ok Quasi quasi torno in base E una volta arrivati a casa Dopo essere passati velocemente dalla mesa Per prendermi un pochettino di Stained Clay Andiamo a togliere tutta quanta la Ledstone Che avevo utilizzato per far bridare l'Electros con il ditto Che sì Ho scoperto poi a metà dell'episodio Che Electros è puro elettro E non ha nulla di tipo acqua Il fatto sta che la Stained Clay mi serve Per agevolare il breeding dei Pokémon di tipo terra Quale Crocorock è Pertanto dopo aver posizionato tutta quanta la terra cotta Andiamo a selezionare il Crocorock Che però Non il Crocorock Il Crocodile Che però vorrei metterlo nel suo slot corretto Eccolo qua Prima del Darumaka E una volta rimesso lì Lo andiamo a selezionare All'interno del breeding machine Yoink Voi due divertitevi Mi raccomando Fate i bravi E io nel frattempo Siccome è giorno Vado in una savana Alla ricerca di un Blitzol Prima della savana però Yoinkiamoci fuori il Sandile E andiamo a dare a lui Tutte quante le caramelle rare necessarie Per farlo diventare un dannato Crocorock Perfetto Tra l'altro gli hanno anche fixato La texture del modello Ed era anche l'ora Perché era ancora tutto quanto quadratoso Spero l'abbiano fixato anche per Crocorock Incrociamo le dita Minchia è gigantesco Comunque sì L'hanno fixato Perfetto E infatti come sospettavo Il Blitzol È qui Davanti a noi Ciao patatino Quanto sei caruccio Fatti catturare con la Megaball va Oddio spero di non dover usare qualcosa di più della Megaball Però Non sta lì Hello Hello Si è frizzato Va bene Rimani pure immobile nella Ball A me non interessa un cazzo Perfetto Dependiamo pure il Blitzol Sta calando la notte Yes Mi conviene quindi volare verso una Desert Hills E questo perché durante l'alba e il tramonto Mi spawnano i Larvesta e i Volcarona Nella Desert Hills Mi manca un Volcarona Non ho voglia di allenare il Larvesta Fino a livelli improbabili Perché io un Larvesta ce l'ho Ma è a livello 7 Per farlo diventare Volcarona Bisognerebbe portarlo intorno al 63 64 Quindi no grazie Piuttosto sto qua E campero Lo spawning di Volcarona L'antico Yamask andava portato in salvo Ce la faranno i nostri eroi veri Amaro I Yamask Ma porca puttana Di cosa sei fatto? Di plutonio arricchito Vieni qua Non ditemi che devo usare una cazzo di Ultra Ball Per una mascherina di merda a livello 10 Per favore Ma basta rompermi le ball Figurativamente e non Tra l'altro Ho dovuto usare la cazzo di Ultra Ball Ma porca miseria Ma non è normale Senti Yamask di me Vieni qua Vai al tuo posto E stai zitto Fatti togliere dalla lista Perfetto Ora chi devo andare a prendere? Panseer e Panpor Ok Giungla Qualsiasi ora del giorno Scimmietta in fida di merda Vieni qua Tu e il tuo ciuffo a forma di fiamma Fatti catturare ora Con questa Eh vabbè ma perché mi muvano di stanza? Vabbè E palle Sì sto per andare a registrare un video in compagnia di altra gente Mi muvano nonostante abbia trovato i panseer in giro Ora mi manca il Panpower E ho trovato anche l'altra scimmietta in fida Ciao Tropius Buonasera ok Scusi ero qua per il Panpower io tecnicamente Quindi vado io in Carmelo Please Lei si tolga dalle scatole Vadi vadi Chi è che mi pocca? Questa è Metano007 che mi pocca su TS Dannazione Tutti quanti questi intrusioni oggi Presa e anche lei è stata fatta Al che Una volta riposta nel PC Dove cavolo l'hanno messa però Hello Eccoti patatina Fatti mettere al tuo posto Molto bene Ora Andando in ordine mi manca il Munna Che spawna di notte nella Megatea Taiga Apparentemente Dopodiché mi mancano Zorua Axiu E Volcarona Spero di riuscire a trovare le tue e tre Oddio volendo Aspetta 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 Una cosa per volta Se tutto va come deve andare Tecnicamente Il nostro Crocodile Ha già copulato Conditto Lo spero vivamente Altrimenti piango Perfetto Mentre faremo schiudere quell'uovo E mentre andremo a cercare A questo punto Munna E Zorua E ovviamente Volcarona Che sarà il più palloso Da trovare Direi a questo punto Di far Bridare insieme Il nostro Axorus O Axorus Non so dove va dall'accento Fatto sa che Abbiamo capito di quale Pokemon Sto parlando Con il ditto In modo tale Da Farci un altro uovo Visto che Ci manca soltanto l'Axio Che è il primo stadio evolutivo Della catena Mi si è a spena Schiuso l'uovo E adesso abbiamo un Sendile Che andiamo a riposizionare Viene il suo posto Dove cacchio vai Stronzo Oh yes baby Yoink Dai che riusciamo a catturare Cibule il Munna Minchia raga Passato un'altra mezz'ora Dalla clip precedente E non raro Di più Di più Fatti catturare però Per favore Non fanno sclerare Già ho Pokeball Ah Pokeball Se devo andare a catturare Altri 4 leggendari Cosa che vorrei effettivamente fare Non mi bastano Soltanto Quante sono 60 Duskball E 40 Ultra Ball Figurarsi Che rottura di cazzo Ogni volta Ogni volta Allora Il Munna Va Qui Molto bene Ora Come detto Zorua E' ancora notte E' ancora notte Quindi forse facciamo in tempo Ah ah Stronzo Volevi eh Invece no Uè Messer Zorua O madama Zorua Questo non lo so Come la fa Ok E' un messer Zorua Ah Megaball Timmi che funziona Almeno con te Già l'ho dovuto Scravare col Munna Ti prego Yay Ce l'abbiamo fatta Porca troia Quanto odio I pokemon inutili Che mi fanno sprecare Mille mila Mille 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 cento ball Che A cosa corrisponde Non lo so Probabilmente Milioni di miliardi Di miliardi Di milioni Di miliardi Ok Andiamo a riposizionare Il Zorua Raga Volcarona Cobalion Tornado Stando Ruschiurem Il discorso è questo Volcarona Lo lascio in coda Perché Stare a camperare Per un pokemon Normale Come se stessi a camperare Per un leggendario No A quel punto Mi metto a camperare I leggendari Partiamo da La savana Potenzialmente Possibilmente Anzi A cavallo Con una savana M Perché Nella savana Di giorno Spawna Tornados Mentre nella savana M Di notte Spawna Tandorus Quindi potrei riuscire a catturare Entrambi i geni Sentite A me va bene tutto Sapete che non mi faccio problemi Per queste cose Però Per quale Stracazzo di motivo Quando mi spawnano I leggendari Devono sempre Essere Fottutamente Minuscoli Tornados Perché sei alto Mezzo blocco Che problemi Perché sempre a me I pokemon Nani Vabbè Oh Amen Succede Selezioniamo il malammare Andiamo ad attaccare Il tornado Cercando di indebolirlo Se non sbaglio Tornados è Volante Elettro No quello è Tandorus Tornados mi sa che è volante Basta O forse è volante normale Vandami a controllare No ok È volante puro Mi sa che è uno Di pochissimi pokemon Che Proprio hanno il tipo Volante puro E no puro Non Pezzi di merda Siete la rovina Puro nel senso che ha Soltanto quel tipo lì Detto questo Io vado con beccata È l'unico attacco Che mi sa che non gli farà Tanto danno invece E invece E invece Yes baby Abbiamo catturato Il tornado Nonostante la vita gialla Nonostante le difficoltà Con golemma A 35 di vita Signori Abbiamo catturato Il dannato Genio dei 20 Ma Tearles Hai catturato il genio dei 20 Perché non catturi Anche il genio dei 30 Sono simpatico Ed ecco qua Il nostro Amato Tornadus Eccolo qua Ciao Zio Come stai Fatti Allora Ma fatti vedere Ma quanto sei ridicolo Ma scusami Che dimensione hai Pigmeo Pigmeo Ma Vaffanculo Sono ragazzo Fortunato Perché mi hanno Regalato il mondo Sono fortunato Perché Tandurus È Assai rotondo Soprattutto per Riguardo al boffice Sì Mi ha sposato Mi ha sposato What? Mi ha spawnato Il Tandurus E Tandurus È volante elettro Quindi Jellicent It's your moment Visto che non farai Una sega di danno E morirei dopo un colpo Vami con Scald Non bruciarlo Bravissimo E ora ci muore I Ok Non è bruciato Bene Vita rossa Duskball Bene Ottimo Sì però Fallo almeno un imbalzo Dammi la stasoddisfazione Eh Dammi stasoddisfazione Non so parlare mai È andato Yes Yes Cazzo E andiamo E andiamo Posso andare a dormire Felice Questa notte Perché ho catturato Anche l'ultimo genio Di merda Cobalion E Zekrom E Zekrom Ho notato È Kyurem Zekrom è qua Partiamo da Cobalion Partiamo da Cobalion Buongiorno A questo Kyurem Che appare Nelle High Spikes Plains Ho sbagliato il nome Del bioma Ma poco importa Ciao gatto Ci spostiamo Grazie mille Allora gente È il mattino seguente Dopo aver catturato il tandolo Sono andato a dormire E Pezzo di merda Ti ho sgamato tantissimo Sono andato a dormire Però Prima Ho messo a far Briddare Anche il Vanilux Per ottenere Insomma Ho fatto un po' di cose Ok Prima di andare a dormire E appena svegliato Mentre montavo il video Mi sono messo a camperare Il Kyurem Che È Finalmente Spawnato In Fido Drago Della M Adesso Vedo di non ucciderti Perché l'altra volta È stata colpa mia Questa volta Vediamo di evitare Vediamo di evitare Di bruciarlo Anche lui Ho tolto una sega Fantastico Ok Vita rossa Vita rossa Vita rossa Vita rossa Molto bene Ora si spammano Ultrapall a manetta Beh che dire Beh che dire Che dire Sami che dira Abbiamo preso il Kyurem Con il Darmanitan in vita Con ben 118 PS Grazie Windows A questo punto Dopo esserci curati I Pokémon Direi che possiamo Tipparci Immediatamente In un Extreme Meals Plus M Spero di trovarne una Qua in giro Perché Oddio non so Tecnicamente Qua ci sono le Extreme Meals M Ma le Plus M Le abbiamo? Ehm Frizzini Buongiorno Ero convinto di avercele qua E invece no Resti in PG Ah Giustamente Prima che mi dimentichi Prendiamo Il Kyurem Che dovrebbe trovarsi Nel box sotto Eccolo qua E spostiamolo Nel suo spot Perfetto Muy bien Cerchiamo sto bioma Inutile va No no Inutile non lo è Perché mi fa spawnare il Cobalion E nel frattempo Mentre attendevo O meglio Mentre attendo Il Cobalion Mi si è anche schiuso il primo uovo Quello del Vanillite Che Non so se ve l'abbiamo mai detto Ma Non l'avevo catturato mai E mi ero dimenticato Mi ero dimenticato di farlo Perché sono un emerito Idiota E non mi rendo conto Di queste cose Il fatto sta che Adesso abbiamo anche Il Vanillite Abbiamo completato Tutti quanti i Pokémon Della sesta gen E ci si è fatta per Axi Che però è nell'uovo Che ancora ho in squadra Ah cazzo Volcarona Oh shit Eh mi sa che Volcarona Non riesco a catturarlo io In questo episodio Perché Time is running out Già E anche parecchio in fretta Oh yes baby Mi è spawnato pure il Cobalion Dove sei tesoro Hello Sarai là dietro Già lo immagino E infatti Come voleva si dimostrare Ecco qui Questa sorta di Capretta Cosa è Oh Salve Non mi faccio un cazzo Però salve Tra l'altro Mi è anche dato bene Che è notte in questo momento Però non so bene Con chi ingaggiarlo Perché ok Ho Macargo in squadra Qualc'altro Pokémon A livello 40 Tipo Reuniculus Tipo Clang Eh me li faccio bastare Dai Psichico gli ha fatto parecchio male Ma tipo Parecchio male Fanculo Macargo a corpo di fuoco È vero Lanciamogli una Duskball E poi fuggiamo La spazia che me la faccia fare Fuggi 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 Madonna Se sei tardo Cargo Porca troia Ragazzi Io purtroppo Non ho altro tempo A disposizione Perché devo aspettare Altre 4 ore E tra 4 ore Sarebbero le 4 Quindi Nope Il video sarebbe Già uscito Ora di quell'ora Pertanto Cobalion Lo cattureremo Nel prossimo episodio Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così fosse Lasciate un bel like A posta di descrizione A tutti quanti In social network E noi ci vediamo Più tardi Alle 6 e mezza Con una live Sul sito Viola Link in descrizione Vi aspetto numerosi Mi raccomando Non mancate E altrimenti Ci vediamo domani Alle 2 e mezza Con un nuovo video Bye bye Sous-titrage ST' 501